Avanti, avanti! Montate! Ho sondato Golda ieri, non sarà facile convincerla a cedere le sue azioni. Non ti preoccupare, ho il mio metodo e non credere che vada in giro ad ammazzare vecchiette. Malgrado quel che si dice non è un violento, in genere preferisce usare la vasellina. E di solito la sua vasellina e il denaro. E se occorre un po' di ricatto? Disgraziatamente con Johnny il denaro non serve. Ti prego di scusarlo, ma non è colpa sua, sei tutto scemo. Senti chi parla, ma non ti accorgi quanto sei stronzo? Stronzo ci sarai tu, guarda che io... Ragazzi smettetela! E fatti gli affaracci tuoi! Calma, calma ragazzi, io già non vi reggo più. È una tradizione, fin da quando il padre di Golda fondò New Day e la scuola di sci. Oggi il capo è Roger. E quel Johnny? Non mi direi che è importante anche lui. Johnny è il successore di Roger. E così vi drogate? Sì! E la roba chi ve la dà? Abbiamo i nostri contatti. A fare i nostri. E vostro padre che fa? Vende la droga, rapina banche, ammazza vecchiette, violenta ragazza e bambini. Niente di straordinario. Questi pazzi della scuola di sci devono essere tenuti tranquilli, altrimenti possono intralciare i miei progetti. Non mi preoccupano le poche azioni di New Day che hanno arraffato, ma il casino che potrebbero combinarci. Niente di peggio delle proteste di qualche scalmanato. E chi ci pensa? Tu, mia cara. Te l'ho già detto, con Johnny la grana non attacca. E tu usa un altro argomento. Ce l'hai, no? Che fai di bello quando non sci? Non darle retta. Quando dice così cerca rogna. Faglio da vedere, Johnny, come si comporta un uomo. Ascoltami, ragazzina. Tutto quello che devo fare è farti vedere come si usano gli sci. Ma where? Che fai di bello quando accol bash lascia.